Siamo in una boutique Aspettando di andare a una reception per meeting on the bridge questa sera E vi di caso siamo caduti su una stilista molto carina Una stilista che si chiama Ben Rien Which is the name of the boutique? Passage boutique Passage boutique, ok Lei però parla pochissimo inglese Non parla francese, parla turco Ed è molto difficile capirsi Ok, you design jewels, is it? Seven Turkish young designers Ok, and you are one of that Jevra Lee, five Turkish designers E allora, finalmente ci siamo capite e lei ha indossato i suoi gioielli Questi sono gioielli che lei ha disegnato E poi questi, guardate che bellezza questa, che delizia Che finezza E questo è molto più allegro, molto più per l'estate Con dei turchesi, delle palline d'oro E una frange Invertiamo le parti Ciao Bye 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 bye, ciao See you Next year Ok Come back again Ok Avete visto la sua mamma Che è bellissima Lui è Hitek Starch Sarche Sarche, ok Ed è uno dei 47 designer Che lavorano per questa boutique Che si chiama Passage Ok, lui ha disegnato Allora, guardate un attimo Questo anello Mi pare bello Questa collana Questo bracciale Queste sciarpe Questa soprattutto è stata fatta in borsa Questa azzurra E tantissime altre cose Ok, so Are you enjoying your work? Absolutely I am enjoying Because We are a designer Also We are thinking about First one In our head And then We made it Also These scarves Also These rings Also This necklace Also This bracelet Also All of them My design Also I am a designer Also I like My job Ok Come and let's see Grazie a tutti